L'ambiente, il Green Deal e le rinnovabili saranno al centro della nostra azione nel prossimo anno. Creare posti di lavoro, sviluppare le esportazioni, favorire la transizione ecologica verso un'economia più sostenibile e quindi sempre più competitiva a livello internazionale è la visione che anima tutto il nostro governo e anche questo Ministero degli Esteri. Nel 2021 il nostro Paese sarà poi co-presidente della COP26 insieme al Regno Unito. Sarà anche l'anno di Expo Dubai che sarà un'occasione per mostrare al mondo ancora una volta la resilienza, il tasso di innovazione e la qualità del nostro sistema imprenditoriale. Dal primo dicembre scorso e per tutto il 2021 l'Italia esercita per la prima volta la presidenza del G20 e gestirà l'agenda della ricerca di soluzioni alle sfide globali. E questa per noi è una straordinaria opportunità in più per ribadire che vogliamo promuovere una ripresa economica sostenibile, inclusiva e resiliente e promuovere la salute come bene pubblico globale. Organizzeremo la riunione dei Ministri degli Esteri G20 a Matera. Potremo far conoscere una delle città più belle del nostro Paese, promuovere al meglio la nostra cultura e le nostre eccellenze. E ai fini dei nostri lavori qui oggi ospiteremo a Sorrento la riunione dei Ministri del Commercio del G20 in cui discuteremo delle misure necessarie per una ripresa economica globale, sostenibile e resiliente, oltre che della riforma dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. E proprio per sottolineare quanto rilevante sarà mantenere e rafforzare il flusso di investimenti e commercio internazionale anche per rispondere alle nuove sfide che il mondo ci pone, a margine di questa riunione organizzeremo un evento dedicato a start-up e innovazione in cui riuniremo 100 grandi investitori G20 e 100 aziende innovative. Servirà per ribadire al mondo come l'Italia sia un Paese all'avanguardia, con idee che possono avere un impatto sul futuro di tutti, un Paese che può e deve diventare sempre più attraente per gli investitori esteri. In questo senso stiamo lavorando insieme a Simest e con il Fondo Nazionale Innovazione a strumenti in grado di aumentare la capacità del nostro sistema di sostenere la crescita internazionale delle nostre imprese più innovative. Signore e signori, è il momento di continuare a costruire la ripresa lungo le linee tracciate nei mesi scorsi dal Patto per l'Export. Al termine di questa cabina di regia adotteremo un documento di conclusioni che tiene conto dei contributi di tutti voi. Questo documento rappresenta il proseguimento di un percorso strategico mai avviato prima e di linee di azione che vedranno l'impegno di tutti gli attori di sistema chiamati a realizzarlo. Grazie a tutti.